Vardinese ci ha aspettato molto, non riusciva a farci giocare, esprimere come volevamo e organizzava le ripartenze. Poi sono le cose che dobbiamo migliorare, abbiamo cambiato molto dal punto di vista mentale e di sviluppo del gioco. Questo è dove forse ci troviamo in difficoltà in questo momento, ma ci lavoreremo. Noi dobbiamo fare le nostre cose come abbiamo fatto tutto nel precampionato e portare il calcio che vogliamo esprimere davanti ai nostri tifosi perché è un calcio che attira e che fa divertire. Ma bene, riesco a utilizzare le mie caratteristiche fisiche e tattiche mentali, c'è da migliorare ovviamente perché dopo che hai una vita che giochi in un altro ruolo cambiarlo così e ad alti livelli non è mai semplice, però c'è tutta la voglia. Io lo do dove mi viene richiesto, la mezzala la sto facendo adesso e magari provo a buttarmi qualche volta in più perché ho una mentalità mia offensiva da attaccante, però non prendo io quelle decisioni.